dal vangelo secondo matteo in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli questa parabola il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna uscito poi verso le nove del mattino ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro andate anche voi nella vigna quello che è giusto ve lo darò ed essi andarono uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto uscito ancora verso le cinque ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro perché venne state qui tutto il giorno senza far niente gli risposero perché nessuno ci ha presi a giornata ed egli disse loro andate anche voi nella vigna quando fu sera il padrone della vigna disse al suo fattore chiama i lavoratori e dai loro la paga incominciando dagli ultimi fino ai primi venuti quelli delle cinque del pomeriggio ricevettero ciascuno un denaro quando arrivarono i primi pensarono che avrebbero ricevuto di più ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo ma il padrone rispondendo a uno di loro disse amico io non ti faccio torto non hai forse concordato con me per un denaro prendi il tuo e vattene ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te non posso fare delle mie cose quello che voglio oppure tu sei invidioso perché io sono buono così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi parola del signore carissimi amici di lacrime d'amore tv ben trovati usci la parabola di questa domenica ci parla di questo padrone di casa o della vigna che esce a cercare operai per la sua vigna questa forse è una delle parabole più difficile da accettare da parte di quei cristiani che è sottoscritto talvolta che sono impegnati in prima persona nelle nostre comunità parrocchiali nei nostri gruppi nei nostri movimenti cioè di cristiani che si spendono per la comunità si spendono anche per il vangelo ma che dentro portano sempre quella piccola zona di invidia per gli altri dicevo che è una parabola difficile da accogliere perché qui il senso della giustizia viene completamente sconvolto viene totalmente cambiato e talvolta ci soffermiamo più sul fatto del della retribuzione che nel fatto che siamo stati cercati e amati da questo padrone che esce e ci viene a cercare noi pensiamo più alla fatica che facciamo per questo padrone che non alla gioia di passare del tempo per compiere un'opera che lui ci ha assegnato noi pensiamo più a quanto ci costa stare nella vigna a noi che è la gioia di stare dentro questa vigna e quando vediamo che altri vengono e si accomodano in quei posti che noi abbiamo preparato in quelle situazioni che noi abbiamo faticato a fare accettare questo ci provoca tanta sofferenza tanta invidia e anche tanta maldicenza una volta in una parrocchia una persona impegnata impegnata in prima persona quando vide arrivare nuove persone perché erano cambiate pure le situazioni che si erano stati ai margini della parrocchia si erano fatti vedere poco e cominciavano a prendere ecco anche loro posto nella comunità con agli assizzita disse ma questi dove si sono fatti l'estate si devono fare l'inverno forse questo è il nostro modo di pensare cioè noi abbiamo faticato gli altri non hanno fatto nulla stiano fuori ma la logica di dio è un altro tutti hanno posto nella mia vigna e tutti sono degni del mio amore buona domenica a tutti voi grazie a tutti